...ma non faccio lo stesso appello, 12 minuti e la 24... ...estate da te... ...dice... ...e ci sia, io penso a dire che questo è la... ...bello, bello, bello ...voce... ...angolo per dare il strascetto, o se no, è un sito di tenere... ...ah no 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 no... ...eccolo, bravo, non c'è, ma non c'è. ...i che questo è il centro non c'è, ma non c'è... ...e me lo so, non c'è... ...ma noi... ...ma noi diciamo che... ...un sto grande a sé che ci saranno con i presidenti che da poco ci vede di due o tre inattanti, ma di poco non si è conoscente. Per quanto si riguarda, lei c'è sempre una mano di incommensi sull'assunzione dei consiglieri comunali. Io ho notato che tutti non li ho pubblicamente, e sottoscritto, come tanti gli amici che stanno presentando sui comunali, da giugno a dicembre, ha percepito un 254 euro di compenso per il numero 7 di consiglieri comunali. Quindi, non vi chiedo se sei stato interessato ogni tanto che sei in campo, vede che sei in campo, ce l'hai che sei in campo, e la chiesa, e la chiesa, e la scultura, e la scorsa, perché lei è curro due, complimenti. Però non si muove, non si muove così, ma per te, ma da una risolta, ma da una risolta, ma da un muore, ma da un muore, 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 da un muore. Tutto che sta l'esercito, è che mi mette in vitro, a un cortesente. Aggiungi prané, Faccio anche il commento pubblico, però, noi non abbiamo niente di dire, io la sfido a dimostrare quello che dice lei, perché per quanto riguarda noi veniamo qua a costo delto, per quanto riguarda le nomine, io non vi sono poco per il suo comune, però ho fatto il presente che non l'ho mai detto al vostro, da settembre a 2012, non è cambiato niente, non è cambiato niente, guarda, perché al posto nostro c'erano altre persone, che mi stima pubblicamente parlando, ma l'andarte è la mia presenza, nomina, sottonomina, perché io ne ho sentito il senso, io faccio l'altro alla tua persona, ma quante persone, in questo momento, vorremmo vivere di qua? No, ma il problema, perché il problema è che non siamo bene con il senso, noi abbiamo una niente, questo non si comune, ha fatto sempre inizia, e non è il nostro, ma abbiamo fatto una situazione pubblica, Allora, io devo sortire, non so ancora da che punto sta la rivoluzione, perché quando si fa il riferimento, quando si fa il riferimento, quando si fa il riferimento, per il riferimento, per i vetri di quattro partiti maggiorari, esistico un documento politico, io penso che se le più erano rispettate, noi siamo stati di una di un'onestà mentale, anzi, io forse no, perché sono della simboli capitale, a poter, abbiamo, abbiamo rimontato il primo capo, abbiamo votato, il quarto capo abbiamo votato il primo capo, La disposta è stata che purtroppo ci sono stati plegati, forse per l'esperienza, forse per il buonismo, forse per la vita, però non ci sono stati plegati, perché quella condizione ha la spesa del nostro, del nostro figlio, 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 del nostro figlio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no oppure l'esigenza di persone. Io capisco che per lei la politica la fa vera, non io, io punto dai barattari a te. Però, quando parlo, faccio nomi con nomi, danni a me. E io, come se io non c'è? Allora, chi non è che?